un altro un altro ancora ieri abbiamo parlato di gilmore oggi un altro acquisto del napoli di antonio conte david neres david neres ragazzi io sono sbalordito da questo acquisto sinceramente adesso ne parleremo insieme vorrei il vostro commento qua sotto cosa ne pensate di questo calciatore che il napoli si è assicurato portando a segno questo colpo intanto però un benvenuto a tutti dal vostro enrico caffarelli che ancora qui in una stanza d'albergo sto quasi finendo le ferie ahimè mi trovo in calabria però ci tenevo a condividere con voi anche questo acquisto del del napoli che conte ha lamentato no ha detto che secondo lui la squadra ancora non è completa ci vogliono ancora qualche pedina in più per poter completare questo organico nient'altro per andare in campo e non fare le figuracce che la squadra partenopea ha effettuato l'altro anno ti volevo anche dire mi sono dimenticato di supportare questo video con un bel like con un mi piace farmi questo favore mi trovo in una posizione proprio non abitué no i video quando sei a casa sei più tranquillo e invece qua diciamo è una posizione di fortuna quindi mi merito anche una iscrizione al canale a questo e al mio secondo che si chiama caffarelli solo calcio ti lascio qua sotto il link in descrizione venimi a seguire iscriviti anche al secondo canale e quindi andiamo alla alle cifre i dettagli di questo calciatore esterno offensivo mancino brasiliano quindi parliamo di uno che il calcio lo conosce lo lo assapora lo lo mastica perché i brasiliani sappiamo tutti che hanno una marcia in più anno 1997 quindi anche abbastanza giovane no ancora tutta la carriera davanti proveniente dal benfiga e le cifre adesso ne parleremo volevo dire che in quella zona di campo tolto quaraschelia che lui ha il posto assicurato anche se deve sempre guadagnarselo deve sempre dare tutto per poter portare la maglia da titolare però io credo che la squadra di conte partirà da quaraschelia titolare e tutto sarà incentrato su di lui quindi la fascia libera perché parliamo di un calciatore esterno no uno che ha il i colpi da 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 funambolo salta l'uomo è bravissimo tecnicamente rapido è anche uno che sulla falcata è difficile che che lo palla al piede lo fermi quindi diciamo che la parte dove dovrà guadagnarsi la la maglia da titolare è quella di dove giocano politano e ngonge quindi sarà un bel una bel da fare lì per per conto a dc per decidere chi schierare nelle nelle partite che verranno anzi da domani da domani inizia il campionato finalmente e il tecnico salentino avrà un'opzione in più a sulla fascia partiamo dal dal presupposto che in napoli già aveva un accordo col calciatore da qualche giorno da più di qualche giorno sapete tutti che prima giustamente i direttori sportivi vanno a parlare con il calciatore con i manager con i suoi con i procuratori e quindi si erano messi d'accordo con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione fino al 2028 con l'opzione fino al 2029 intesa è stata trovata anche con il benfica che giustamente vuole la sua parte perché l'ha valorizzato il calciatore stiamo parlando di uno più dei dei uno dei più bravi secondo me e su quel su quel ruolo nel diciamo nel calcio internazionale no perché benfica ha fatto vedere gran calcio ma non soltanto quest'anno anche negli anni precedenti e quindi neres è stato uno degli artefici di questo bel gioco da parte della squadra portoghese e il trasferimento di neres al napoli è a titolo definitivo è quindi lo compra definitivamente non ci sono prestiti con obbligo né prestiti con diritto nulla il calciatore è del napoli è stato acquistato dal napoli con una cifra di 28 milioni di euro è atteso in italia il calciatore per questo weekend perché ci saranno le visite mediche già programmate a villa a villa stuart lunedì che verrà e quindi non sarà a disposizione di conte per questo weekend di campionato però dovrà avere calma avere sangue freddo il tecnico che è un po fumantino no quando vede che le cose non vanno per il verso giusto secondo me fa anche bene a dire come stanno le vicende come stanno le situazioni e quindi ha detto a me mancano questo tizio gaio a semprogno e quindi il calciatore sarà pronto martedì a schierarsi a disposizione di conte per allenarsi e poi vedremo che se riuscirà a giocare la partita che verrà io a questo punto dico che il napoli non è ancora completo perché sappiamo tutti la situazione di osi man non si sa che fine dovrà fare e quindi ha puntellato la difesa con rafa marin ha puntellato il centrocampo con billy gilmo billy gin gilmoor scherzo billy gilmoor e adesso a destra a un calciatore che secondo me potrà fare la differenza e avere uno come neres e un altro come quara scheglia e davanti lukaku non lo so conte ha detto che secondo lui il centravanti del napoli sarà lukaku però ancora è tutto in divenire però sulle fasce sono prontissimi perché come ho detto prima hanno anche altre opzioni polipolitano e ingonge quindi napoli sulle fasce quest'anno sarà molto pericoloso per le squadre che affronterà secondo me neres è un grandissimo colpo è un calciatore che può fare la differenza salta l'uomo è uno che non è neanche egoista lui può fare la scelta giusta dalla tre quarti in avanti difficilmente sbaglia magari non è uno che si incaponisce va a testa bassa sapendo che tra le sue tra i suoi piedi c'è una tecnica individuale non non da poco perché io le partite del benfica me le sono viste e neres ragazzi è uno che quando parte è difficile contrastarlo non so se l'avete visto voi io sicuramente mi ricordo un calciatore che quando quando è in forma quando è in palla te la brucia quella fascia e non disdegna anche di assist e e goal però però perciò no però perciò il napoli ha acquisito in formazione in rosa un calciatore fondamentale per il gioco di antonio conte adesso è tutto da vedere chi sarà il centravanti il bomber che i tifosi napoletani miei amici e anche amiche mi scrivono su su instagram su tiktok erico a noi ci manca il centravanti è vergognoso cominciare il campionato senza avere un bomber di riferimento come dagli torto però secondo me il napoli può anche iniziare il campionato con simeone e raspatori poi sicuramente entro il 30 agosto arriverà lukaku se non prima è la situazione di osimen è tutta da chiarire sembra che il celsi abbia fatto un passo avanti per poterlo acquistare adesso vedremo intanto vi invito a commentare questo video cosa ne pensate di neres al napoli oltre che a lasciare un bel like e ad una bella iscrizione ciao a tutti da enrico caffarelli